Questo è tuo? Sicuramente non è per me, guarda. Senti, con chi invece non sei proprio andato d'accordo? Dici, io in questo programma, se non lo posso o non la vedo è meglio. Con nessuno, guarda. Io vedo la... leggo il labiale, Luca, vero? Luca proprio, ragazzi, non si poteva sentire.